musica ho un muchacho che dice Sto giocando il domino e io vieno e gli dicono e perchè stai mirando a me che le pari di pugnali che le pari di tiro quanti dispari le fanno? le fanno 2 tiro e un pari di galletà un dominicano? si, un dominicano perchè lo fanno? perchè lo fanno? non c'è nulla con noi però noi stiamo lavorando perchè oggi noi stiamo lavorando noi stiamo lavorando si venivano qui giocando però non ci dice nulla venivano con l'alma e gli dano un tiro non 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 però è Cosa provocò la discusione? Non c'è nessun uomo. Solo venia a parlare. Il uomo stava fumando per andare a casa. Quindi venia a parlare con la gente, e venia a parlare con il domino. Ma il mio esposo non dice nulla. Solo venia a parlare con un tiro. Osea, il tuo esposo stava jugando il domino? Si. Quindi, tu la conosci? Io la conosci. Quindi, chi è lui? Perché le propinò il disparo? Questo è da vecina, da vecina. Qui è questa persona? De vecino? Esa è da vecino. Non c'è nessun inconveniente? Non. E perché crede che... Io stava qui. A dove stava il domino? Ok, ma la question è, perché la persona le proponò il disparo? Perché stava fumando. Tiene un figlio che hanno un figlio che stava fumando. Il vecino disse, tu non sei, ma l'obre! La mamma di lui che venia a dire, non non posso fumando il mio, non posso fumare. Il autresse venia mirando il bisizio, che stava fumando il mio fratello e il mio esposo. Spesso non riuscrono. Ma l'obre che non riscrono nascendo. E venia a buscar una, un uau e gli uombre. E gli hanno avuto un tiro. Come si chiama questa persona che ha fatto il risparo? Io non so il nome, ma io lo conosco In quale settore è successo? È il vecino Il vecino